Ciao ragazzi da Vittorio, praticamente sappiamo la formazione che la Lazio schiererà, Simone Enzaghi schiererà contro il Napoli domani, ne parliamo in questo video. Ciao a tutti da Vittorio, mi raccomando se sei un tifoso da Lazio iscriviti al canale. Oggi parliamo della formazione che Simone Enzaghi ha scelto per affrontare il Napoli. Partita fondamentale perché la Lazio, dopo le brutte prestazioni, deve dare un segnale importante. Non è solo la vittoria, ma bisogna anche tornare a giocare quel calcio che abbiamo visto alla Lazio, soprattutto l'anno scorso, che quest'anno abbiamo visto praticamente poche volte. E quindi è una partita difficilissima, Enzaghi l'ha detto in conferenza stampa, però è anche convinto che la squadra ritornerà sui buoni livelli di un po' di tempo fa. La formazione. Reina in porta e onestamente sono sorpreso perché pensavo che Stracoscia meritasse un'altra chance, soprattutto perché Reina non sta brillando. Comunque, Reina in porta. In difesa torna Acerbi e questa era la preoccupazione più grande. Acerbi ha recuperato, sarà titolare domani, con vicino Radu, ancora scelto Stefan Radu, che non sta facendo benissimo. Siamo onessi, però Enzaghi ha optato per la sua esperienza. E Luis Felipe, quindi Höt e Patrick, che sembravano giocarsi una maglia, invece staranno in panchina. A centrocampo non ce la fa Lucas Leiva. Era un altro dei dubbi, insieme ad Acerbi non giocherà il brasiliano, a suo posto Escalante, che però, dobbiamo dire che a Benevento è stata forse la nota più positiva, no? Escalante ha fatto bene il partito titolare per la prima volta. A me è piaciuto, mi era piaciuto già a inizio anno, quelle poche volte che ha giocato. Devo dire che nella prima da titolare mi ha fatto un'ottima impressione. Più dinamico di Leiva, sicuramente meno esperienza, forse più interno di centrocampo che mediana la Leiva, però la sua prestazione ci è piaciuta. Almeno a me è piaciuta, ma mi sembra che anche a voi. Sugli esterni non ci sono novità, perché fare sei out, Javan Anderson non gioca mai, per cui i due a giocare li potete indovinare anche voi, Lazzari e Marusic, non ci sono alternative. E questo è un problema, ho già fatto un video a riguardo, andatelo a vedere, ve lo linko qua sopra. Centrocampo con Milinkovic Savic e Luiz Alberto. Luiz Alberto che contro Benevento a me non è piaciuto, Milinkovic Savic che mi è sembrato stanco, però Inzaghi ha deciso in una partita così importante di rischierare a tutte e due. Che dire, Inzaghi nei momenti difficili si affida sempre al suo zoccolo duro. Non è una sorpresa che Acervi stringerà i denti, non è una sorpresa che gioca Radu, non è una sorpresa che giocano Milinkovic Savic e Luiz Alberto. Questi sono i uomini di Simone Inzaghi e in una partita fondamentale come quella di Napoli, contro il Napoli, non è una sorpresa che Inzaghi gli schiera titolare. Vediamo perché Luiz Alberto onestamente non sta giocando bene. Anche Milinkovic Savic mi è sembrato molto stanco. Che dire, io quasi mi auguravo una presenza di Andrés Pereira titolare dopo le due ottime performance nei minuti finali delle ultime partite e invece sarà ancora Luiz Alberto. Speriamo che il mago si riaccendi come lo scorso anno e non giochi come ha giocato contro Benevento. Davanti Ciro Immobile è sicuro del posto, dovrebbe giocare vicino il Tuku Correa che ha vinto il ballottaggio con Caicedo. Murici è recuperato finalmente, quindi Inzaghi avrà più scelte in attacco, però Ciro Immobile non si discute. Tuku Correa ha vinto il ballottaggio con Caicedo. Caicedo anche lui non sta benissimo, per cui ci sta la scelta di Correa vicino a Ciro Immobile. Diciamo quasi la Lazio titolare, no? Manca solo Lucas Leiva. Il problema qual è? Il problema è che sì, è la Lazio titolare, ma Luiz Alberto, Milinkovic Savic, Radu non stanno giocando benissimo. Contro Napoli servirà un'ottima partita, è vero. Napoli è senza tanti giocatori, però è sempre il Napoli. Una squadra che ha fiducia, una squadra che è tosta, non si batte da sola, per cui la Lazio dovrà giocare bene per portare a casa tre punti. Tre punti fondamentali, perché è vero, la classifica è ancora corta, ma la Lazio è ben lontana dalle zone alte, quindi servirebbe una vittoria per scalare la classifica, soprattutto una vittoria contro una Big per dare morale, perché quest'anno la Lazio contro i Big non ha portato a casa ancora una vittoria. E tu che ne dici? Schrivami nei commenti qua sotto. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.